Tutto ruota intorno al documento recapitato agli organi amministratori e di controllo della Cari Chieti. È infatti in quelle pagine che sono elencate tutte le voci che hanno portato il Ministero delle Finanze e la Banca d'Italia a ordinare il commissariamento con il provvedimento datato 16 settembre per la Cassa di Risparmio di Chieti. La DOSBEF, associazione a tutela dei consumatori nel ramo bancario assicurativo, chiede di pubblicare quel documento. Indispensabile per capire la vera ragione del commissariamento e la conseguente gravità della situazione. Per quanto sia scarno il comunicato traspare abbastanza chiaramente che la problematica posta in discussione non è di ordine patrimoniale, non si è di, credo, spero, non si sia messa in discussione la solidità della banca, ma evidentemente atti di gestione interni all'Istituto di Credito legati probabilmente alla governance. È necessario capire bene fino a che punto e di che cosa stiamo parlando affinché tutti gli utenti della banca possano essere tranquillizzati e continuare come ritengo sia opportuno e doveroso nella loro gestione dei conti bancari. Stando il comunicato pubblicato dal commissario straordinario che recita testualmente, la banca è affidata agli organi straordinari che operano sotto la supervisione di Banca d'Italia. La banca prosegue regolarmente la propria attività, la clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli. Azzeramento al vertice, ma spiega il sindaco di Primio, fra le cattive notizie ce n'è una che lascia ben sperare. La Carichieti non farà la fine della Tercas ed ecco perché. Quello che mi aspetto però è che la fondazione, tutti quanti possono, insomma in questo momento, attivino gli anticorpi perché questa banca non venga svenduta come è capitato per altre banche. C'è un dato importante da sottolineare. Dalle poche cose che ho potuto leggere, mi pare di poter dire che l'azione di Banca d'Italia non sia rivolta alla contestazione della tenuta dei conti di cassa di risparmio, ma alla gestione. Quindi credo che sanata la gestione, tenuti in piedi i conti in modo positivo, si possa tornare a pensare ad una forte banca del territorio.